Arpi credo rappresenti una motivazione molto importante, credo sia un giusto premio per i dirigenti che hanno proseguito questa avventura con tanti impegni e tanti sacrifici e avere dato a questa città che lo meritava dopo tutto quello che ha fatto nel calcio una magnifica vittoria che aspichiamo che sia la prima di altre vittorie della Serie B. Abbiamo vinto, adesso è festa, è una festa, è una gioia, festa continua, festa fino ad agosto adesso. È una cosa sensazionale per la prima volta, è una roba da brividi, veramente da brividi. Vive Carpi! Sono rimasto a casa per scarabanzia, ci ho preso, siamo messi 104 anni in Carpi a arrivare in Serie B e adesso ci è arrivato. Bravi quelli che sono stati a raccontarvela e la sentirete per televisione domani col commento di Enrico Gualtieri. Ciao a tutti, grazie Carpi! Finalmente è arrivato! Finalmente ce l'abbiamo fatta! Siamo in B finalmente, rimarrà nella storia del Carpi questa vittoria! Carpi! 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 Serie B! Serie B! Serie B! Probabilmente a giro sulla barriera, vediamo... Forte! Calcio di punizione per il Carpi! Carpi nere! Calcio di punizione per il Carpi!